Affari tuoi? È un programma televisivo italiano di genere game show trasmesso, su Rai 1 dal 2003 al 2017 e nuovamente dal 2023, in onda nella fascia dell'ex Esprime Time. Negli anni alla conduzione del programma si sono avvicendati diversi conduttori, Paolo Bonolis, Pupo, Antonella Clerici, Flavio Insinna, Max Giusti, Carlo Conti, e, infine, Amadeus. Quest'ultimo ha condotto con successo la trasmissione, che è molto seguita, ma di recente ha dato il suo addio alla Rai per seguire nuovi sogni e progetti professionali. Per questo si rincorrono le voci su chi potrebbe sostituirlo, e pare che tutti abbiano designato, come suo erede naturale Stefano De Martino, uno dei più giovani conduttori di casa Rai che già lo aveva sostituito alla conduzione di Stasera Tutto è possibile su Rai 2. Tuttavia, stando ad una indiscrezione data da Dejanira Marzano in una storia su Instagram, in lizza dopo De Martino si parla di Marco Liurni, un altro conduttore molto amato della Rai. L'abbiamo visto infatti condurre in estate reazione a catena. Un quiz molto apprezzato e seguito, e attualmente ogni sera conduce con successo l'eredità. Pare dunque che possa essere lui il prossimo conduttore di affari tuoi, e non si sa se, a questo punto, dovrà lasciare la conduzione dell'eredità. In attesa di ulteriori conferme. Quel che è certo è che sia Stefano De Martino che Marco Liurni potrebbero essere una buona alternativa ad Amadeus alla conduzione dell'amatissimo gioco dei pacchi.